Ciao ragazze, eccomi qua con un nuovo video tutorial, faccio una breve piccola intro. In questo video tutorial andremo a fare un cestino, un finito cestino in fimo di mimili con il proprio fularino e vi faccio vedere i colori che andremo a utilizzare. Allora ci servirà del beige o comunque del marroncino chiaro, io uso questo che della Premo e poi ci serviranno due, tre o quattro, insomma quanti colori volete per fare il fularino. Io in questo caso ne uso due che sono questo primo effect arancione pescoso che appunto è il pesca, purtroppo il numero si è staccato, e questo verdino molto tenue che è il giada, il verde giada, che è il numero 506. E poi per il resto ci serviranno i nostri trezzi nel mestiere. Io adesso vi lascio il tutorial e buona visione. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.